ah 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 cercasi infermiere ciao io sono stefano e benvenuto in questo nuovo video di intanto in thailandia prima di passare alla notizia volevo invitarti se ancora non è fatto a iscriverti al canale a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video e volevo inoltre anche invitarti a iscriverti al gruppo telegram di intanto in thailandia e il link lo trovi sotto in descrizione la thailandia sta cercando 400 infermieri esperti per prendersi cura del crescente numero di pazienti affetti dal covid 19. Tassana Bontong che è il presidente del consiglio infermieristico thailandese ha dichiarato che gli ospedali stanno aumentando il numero dei letti per i ricoverati di covid 19 e quindi stanno cercando di aumentare il numero di infermieri specializzati che possono appunto prendersi cura di questi pazienti ha aggiunto inoltre che proprio il consiglio degli infermieri sta cercando appunto questi 400 infermieri da inserire nello staff di vari ospedali tra cui il chakri narumbo ed indra l'ospedale universitario tammasat il chulalonkorn memorial hospital ed il bankontian hospital ha continuato dicendo che gli infermieri degli ospedali sia privati che statali si possono arruolare volontariamente e inoltre ha aggiunto che per quanto riguarda gli infermieri specializzati degli ospedali statali quindi già quelli governativi riceveranno una lettera di trasferimento per appunto gli ospedali infine il presidente del consiglio degli infermieri ha detto anche che c'è urgente bisogno di trovare delle strutture ricettive per mettere appunto i malati di covid 19 e soprattutto nelle zone intorno a Bangkok quindi insomma se ci sono i belghi chiusi o strutture simili insomma benvengano questa notizia termina qua ti inviterò a lasciare un like a condividere questo video sui tuoi social ti inviterei inoltre come ho detto prima a iscriverti al gruppo telegram di intanto in Thailandia che il link lo trovi sotto in descrizione è facile facile ci clicchi sopra e ti iscrivi noi ci vediamo il prossimo video